E' un nuovo scelto, con una stessa storia di squadre molto forti, siamo qui per dimostrare quello che sappiamo fare. Giacchiamo contro una squadra che gioca un calcio particolarmente vivo, perciò la partenza di Menni sarà molto significativa, l'atmosfera probabilmente sarà anche fra la sua parte. Ciò che dobbiamo fare è rimanere concentrati tutto il tempo e cercare i giornali più compatti possibili. È importante essere sempre al massimo della motivazione. Per questo la Champions League sicuramente non è mai rappresentata un problema. Le parole di Berami ha perfettamente ragione. Credo che dopo la cessione di Cavani e il lavoro che ha fatto il Napoli sul mercato sia raggiunto un'ottima posizione. Credo che il Napoli sia addirittura più forte dell'anno scorso. Per questo motivo noi ci sentiamo molto più motivati. Noi conosciamo i nostri uniti, naturalmente la nostra squadra ne ha, ma comunque abbiamo un ottimo potenziale che si può sviluppare nel futuro. Il girone sarà duro, ma noi sappiamo quali sono le nostre possibilità. e naturalmente siamo iniziati a cercare un risultato positivo. Noi conosciamo la qualità dei giocatori, ma noi sappiamo anche che non siamo così buoni. Noi abbiamo anche anche i nostri limiti, non abbiamo visto i nostri limiti. Noi vogliamo anche i nostri limiti, ma non vogliamo vedere i nostri limiti. Noi abbiamo l'impressione che... Noi abbiamo l'impressione che... Noi abbiamo l'impressione che... Noi abbiamo l'impressione che... In questo momento rispetto... I giocatori sono molto offensivi, sono dotati di grandi capacitati, di grande tecnica, cooperazione tra di loro in tutte le parti. E non per ultimo hanno comunque una grande esperienza. Prima di ogni partita ci piace sapere con chi andremo a giocare. E ciò che vogliamo fare è dimostrare anche noi ciò che sappiamo di poter fare. Grazie. 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 Grazie.